Ciao a tutti gli appassionati di cucito creativo. Non so voi, ma io quando ho acquistato la mia prima macchina per cucire non ero assolutamente a conoscenza dell'utilizzo delle solette premistoffa o dei piedini premistoffa, né tantomeno riuscivo a riconoscere i piedini che erano in dotazione alla macchina. E ho visto, navigando in rete, che questo è un problema che riguarda molte appassionate di cucito, perché esistono davvero moltissimi piedini premistoffa, tantissimi tipi. Per questo ho pensato di realizzare questa guida, un manuale all'uso dei piedini della macchina per cucire. Trovate qui la descrizione di 28 tipi di piedini che si dividono in base al tipo di cuciture che potete realizzare e al tipo di decorazione. L'utilizzo di alcuni piedini serve infatti soltanto all'abbellimento, all'arricchimento di un progetto di cucito creativo, mentre altri sono fondamentali, come quelli che si usano in sartoria, per realizzare dei capi particolari, ottenere quindi anche dei determinati effetti estetici per quanto riguarda la cucitura. Dall'indice potete vedere che all'interno del manuale trovate la descrizione di tutti i piedini e la loro applicazione pratica, quindi che cosa potete realizzare con ogni tipo di piedino e alla fine del manuale trovate anche in regalo il tutorial di un progetto di cucito creativo, la stuccio yo-yo. Acquistando questo manuale potrete imparare così a riconoscere e ad utilizzare non solo i piedini che avete in dotazione alla macchina, ma anche nel caso in cui vogliate acquistarne degli altri. I piedini descritti in questo manuale sono universali, quindi si possono applicare alla maggior parte delle macchine per cucire, in particolar modo le macchine meccaniche, ma anche alcuni modelli di macchine elettroniche. Alcuni tipi di piedini quindi servono per realizzare effetti estetici, alcuni sono dedicati alla cucitura del patchwork, molti altri servono per realizzare delle cuciture di base e quindi fondamentali. Il manuale è formato da 112 pagine, le foto sono tutte ben visibili, quindi dettagliate, ci sono degli schemi, le procedure sono indicate in modo chiaro e intuitivo, anche le parti della macchina sono ben fotografate, c'è una sezione dedicata allo sbiego, quindi a come realizzare in casa lo sbiego, il nastro sbiego e a come applicarlo con l'apposito piedino. Questo manuale è un ottimo strumento da tenere sempre a portata di mano sul piano da lavoro, in modo da poter essere consultato tutte le volte che ne avete la necessità. Lo potete trovare online sui maggiori store digitali e lo potete acquistare sia in versione cartacea, la versione cartacea la vedete qui, e sia in versione ebook digitale, in modo da poter essere poi consultata su qualunque tipo di dispositivo. Spero che questo progetto vi piaccia e che lo condividiate. Buon cucito!